Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo gli ultimissimi aggiornamenti sulla crisi di governo. Mario Draghi ha lasciato la sua abitazione a città della Pieve, nel casolare immerso nella quiete della campagna dell'Umbria. Il presidente del Consiglio incaricato ha trascorso il fine settimana, probabilmente impegnato a mettere a punto gli ultimi particolari in vista nei confronti decisivi per formare il nuovo governo. Dopo il secondo giro di consultazioni il presidente del Consiglio incaricato potrebbe riferire a Mattarella entro mercoledì 10 febbraio o addirittura la sera prima dopo i colloqui con i partiti. Si ipotizza quindi il giuramento del nuovo esecutivo per venerdì 12 febbraio. Tagliani dice Meloni faccia un passo in più, esecutivo a termine? No, serve tempo per affrontare i problemi. Il sì di forza Italia Draghi nasce soprattutto dall'identità di vedute su come affrontare l'emergenza coronavirus. A dirlo è il vice presidente del partito Antonio Tagliani in un'intervista al Corriere della Sera. Parlando della posizione della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commenta capisco il suo ragionamento ma io avrei preferito che decisesse di stare dalla parte di tutti gli italiani. Vorrei che facesse un passo in più. Al presidente incaricato Mario Draghi riferisce Tagliani abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito trovandolo in sintonia con noi. Gli abbiamo offerto i nostri piani sul recovery plan e sui vaccini e abbiamo indicato le tre riforme prioritarie da fare assieme al recovery, burocrazia, fisco e giustizia. In merito all'alleanza con PD, Movimento 5 Stelle e l'EU spiega non è il governo di una maggioranza quello che nascerà ma dei migliori per combattere la guerra contro il virus sia sul punto sanitario che economico. Noi siamo pronti a toglierci la maglietta della squadra per indossare quella della nazionale, chiarisce Tagliani, il quale non crede che l'esecutivo Draghi debba avere una scadenza. Sono tanti i problemi da affrontare e ci vuole tempo per farlo. Interessante la definizione, togliersi la maglietta della squadra per indossare quella della nazionale. Intanto Ricciardi chiede di confermare al ministro Speranza. Se il governo dice che sta per nascere in Italia e sarà politico-tecnico, ci sarebbe la necessità di non cambiare il ministro della Salute, secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza e docente di igiene all'Università Cattolica. Intervenuto ad Agora su Rai 3, Ricciardi ha sottolineato che il ministro Speranza si è dato veramente anima e corpo a questa lotta contro la pandemia. Inoltre ha aggiunto ormai ha chiara tutta una serie di meccanismi e ha tutta quanta la conoscenza della macchina. Sì, ma aggiungo io, ha anche nascosto il piano segreto e dai magistrati ha fatto finta di non capire e tirava fuori l'altro piano, che non era il piano segreto, faceva finta di confondersi. Ebbè, ha la faccia della trasparenza. Alla Milano la borsa in positivo e spread di nuovo giù. Apertura positiva a Piazza Affari, all'avvio della giornata di trattative Milano è in rialzo dell'1,1%, anche se in misura minore rispetto ad altri mercati europei e mondiali. Non c'è solo l'effetto Draghi a influzzare gli scambi, ma anche le dichiarazioni della neo-ministra del Tesoro degli Stati Uniti. Lo spread prosegue la sua discesa in apertura. Il differenziale BTP-bound è a 94,5%. Le Monde dice che Grillo e Draghi sono due facce della stessa medaglia. Il quotidiano francese torna con un editoriale sulla situazione politica italiana e interpreta Grillo e Draghi, protagonisti di un inedito faccia a faccia sabato scorso, come due facce dello stesso problema. L'ex banchiere e l'ex comico sono, nella lettura del giornale francese, i due volti opposti di una stessa esigenza, quella di inventare nuove forme per superare la stagnazione nata e del fallimento delle forze politiche nazionali. L'editoriale sottolinea che se Mattarella è incaricato Draghi in un momento in cui non c'è l'esigenza immediata di abbassare il debito, la questione è puramente politica. Questa è senza dubbio la migliore notizia per l'Italia e per l'Europa. La condotta della cosa pubblica non può ridursi durevolmente a un atto di bilanciamento tra, da un lato le forze antisistema e dall'altro una corrente tecnocratica senza legittimità democratica. Insomma, una lettura un po' curiosa. Le forze antisistema chissà sarebbero? Il centrodestra sarebbero antisistema? Dall'altra parte una corrente senza legittimità democratica probabilmente su questo hanno ragione. Di Battista dice adesso che Draghi è onesto ma è un capitalista. Ma cosa vuol dire? Ah beh, lui è il cechevara di Roma Nord, quindi ce l'ha con i capitalisti, no? Sia chiaro, non ho dubbi che il professor Draghi sia una persona onesta, preparatissima ed autorevole. Questo non significa che lo sia e debba appoggiare per forza, che io lo debba appoggiare per forza. Io contrasto Draghi non sul piano personale ma su quello politico e, ripeto, non cambio idea. Oltretutto l'assembramento parlamentare che si sta delineando è l'antitesi della politica. Vi invito senza pregiudizi a leggere quel che scrivo sul professor Draghi il 31 agosto scorso. Così Alessandro Di Battista in un post su Facebook un capitalista finanziario è per sempre. Semplicemente vuole fare il presidente della Repubblica e per arrivare al Quirinale è disposto persino a guidare un governo di unità nazionale. Dio ce ne scampi se gli venisse richiesto. Sono parole che ho scritto cinque mesi fa. Le scrissi quando ebbi la sensazione che si stesse lavorando proprio ad un governo. Draghi. Intanto Mantero del Movimento 5 Stelle dice che il voto non se ci saranno ministri Forza Italia e Lega. Voto no se ci sono appunto questi. I tormenti all'interno del Movimento 5 Stelle sulla nascita del nuovo governo non diminuiscono. Oggi è la volta del senatore Matteo Mantero il quale annuncia il suo voto contrario all'esecutivo Draghi. Se rientreranno anche i ministri di Lega e Forza Italia. Sono in attesa di capire come sarà composto l'esecutivo. Se ci saranno questi ministri è impossibile votare la fiducia o ancora lo stigma per il voto alla Casellati come presidente del senato e la fiducia data a un governo con Salvini e Fontana ministri. Non intendo aggiungere altri peccati dice alla DN Cronos Mantero. Se invece il governo avrà un profilo tecnico alto valuterò. Di Maio richiama all'unità nazionale del movimento ma questo lo vediamo in un seguente video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Se volete tra 20-22 minuti ci sarà disponibile un altro video su questo canale. Grazie e buon proseguimento di giornata.